ciao a tutti sono donato neri e vi do il benvenuto sul mio canale dedicato alle automobili alla guida e ai consigli per gli appassionati di motori prima che mi dimentichi vi invito subito a iscrivervi e a lasciare un like se il video vi piace ora senza ulteriori indugi passiamo all'argomento di oggi grazie 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 grazie